. Ciao a tutti, oggi è martedì 26 ottobre 2021. Che presagi avete oggi? Scopriamolo insieme per sapere. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Capita a tutti di non essere in giornata. Oggi non siete in giornata, le ragioni chiedetele alle stelle, giovedì traverso ormai da un anno, anche se vi garantisce comunque abbracci e affetto dalla vostra famiglia, Marte imbronciato in dodicesima casa e la luna ignava che parla solo di soldi. Non che l'argomento vi dispiaccia, ma ora al denaro non volete pensarci nell'ottica del risparmio, piuttosto di qualche acquisto pazzo, che faccia più bella la vostra casa e più intrigante il vostro aspetto. Pensieri romantici all'indirizzo di qualcuno che purtroppo nemmeno vi vede, almeno per il momento, ma magari col nuovo abito elegante e il profumo intrigante potrebbe cambiare idea. Mai perdere la speranza. Troppa fisicità nei rapporti, il poco sentimento è soffocato da un rapporto di coppia inteso come fisicità. Sono in agguato e gelosie, intemperanze, litigi, screzzi e rotture. In amore si aprono crepe evidenti. Mattinata tranquilla alla luce di una rutina a cui siete abituati da tempo. Pomeriggio più movimentato a causa di persone che cercano di violare la vostra privacy e di ficcare il naso nelle vostre faccende. Marte oggi vi rende nervosi e sono possibili scontri con familiari e colleghi, nulla di più sbagliato che accettare provocazioni. Prendete tutto con filosofia e, potendo, decidete per un buon periodo di relax. Non abbiate fretta di mettere a segno qualche colpo importante in amore, la fretta è una cattiva consigliera e potrebbe farvi approdare su spiagge che con il tempo si dimostreranno pericolose. Cercherete aiuto presso amici e parenti ma le risposte saranno deludenti. Ma non disperate, qualcuno che conoscete in seguito vi risolverà un problema che vi affligge. Splendida forma fisica. Grinta. Molta ambizione. Evita l'arroganza. Potrai fare nuove conoscenze. Sarai socievole, loquace, convincente. Non girate la faccia dall'altra parte per paura di una nuova delusione in amore, siate semplicemente voi stessi e accettate le attenzioni di qualcuno che vorrebbe spingersi oltre e dimostrarvi che, a modo suo, si interessa a voi. Perché non siete capaci di mantenere un segreto? Decidetevi per il silenzio se non volete cacciarvi nei guai. Marte vi renderà oggi la giornata molto agitate e nervosa e non mancheranno contrasti con amici, colleghi, parenti e partner. A questo si unirà in serata Mercurio che farà di tutto per confondervi ulteriormente le idee. Non adagiatevi sulle vittorie del passato, sarete chiamate a dare prova del vostro coraggio e delle vostre capacità. Tenetevi alla larga da operazioni rischiose fate a meno di uscire troppo e fate a meno anche di pietanze troppo pesanti e poco tollerabili per il vostro organismo. Nella serata cercate di stare accanto alle persone che amate, senza troppe storie. Il vostro orgoglio in questa giornata potrebbe non permettervi di ragionare lucidamente e questo potrebbe creare degli scontri con le persone a cui volete bene. Gli astri vi mettono di fronte a occasioni irripetibili in campo attivo e professionale quest'oggi, a voi la capacità di saperle afferrare con mano rapida e ferma. Nel privato Nettuno e il sole allargano i vostri orizzonti conoscitivi e, specie se siete nati a ottobre, vi pungolano a mutare ambiente sociale, a relazionarvi con persone nuove, ma, soprattutto diverse da quelle che abitualmente frequentate. State per prendere nuove strade e saranno quelle che vi condurranno verso un'evoluzione personale e spirituale molto significativa. Per quanto riguarda il fitness, vivaci e rinvigoriti, godete dei felici passaggi planetari di Plutone, in specie al modo se siete nati in novembre, che illumina la vostra bellezza fisica, specie se appartenete al gentil sesso. Non siete in giornata e lo si nota già dalla mancanza di energia, cosa che invece dovrebbe rientrare tra le vostre prerogative, ma con Marte abbioccato in dodicesima casa vi lavora tutta all'interno tra rancore e tensioni. Malcontenti che fuori non trapelano perché voi, tra i segni dello zodiaco, siete il più segreto, capaci di un incredibile self-control, quindi i vostri stati d'animo li rivelate solo a chi decidete voi, magari anche a nessuno. Segreta anche la luna di passaggio nell'ottava casa che, anche se transita in gemelli, segno sempre allegro e ridanciano, assume la tonalità dell'ottavo segno, il vostro, ovvero diventa taciturna e misteriosa. Dunque dito indice posato sulle labbra come il piccolo dio egizio Arpocrate, in un gesto che intima il silenzio. Unico amico nettuno acquatico intrigono, le ispirazioni non vi verranno a mancare e nemmeno un tocco di inconfessato romanticismo. A completare e sottolineare quest'apparente immobilità giove inquadratura, poco attivo sul fronte esterno, ma molto su quello interiore. Tregua in famiglia, nulla si agita, ecco la piete dopo la tempesta. O prima? Amore ed eros, sentimenti romantici, chiaro che ve li tenete per voi, perciò se qualcuno spera di essere oggetto da parte vostra di un corteggiamento o addirittura di una dichiarazione sbaglia a capire, non lascerete trapelare nulla e anche se annegate nel desiderio e morite dalla voglia di un bacio, dall'esterno apparite impenetrabili. In coppia passionalità sotto controllo, troppo forse, tanto che a giornata conclusa ve ne andate tranquillamente a dormire e in capo tre minuti ronf ronf ronf. Se il partner si aspettava qualche coccola, gli tocca aspettare ancora un bel pezzo. Neppure in ambito sentimentale porgere l'altra guancia ha dato i risultati che speravate. A questo punto, siate determinati, prendete il toro per le corna e fate capire il vostro punto di vista. I pianeti dell'emozionalità sono in ottima posizione e così pure quelli dell'ardore erotico. Cosa chiedere di più al cielo, se siete single? Seguite il vostro intuito e riuscirete dove altri hanno fallito. Specie nel conquistare cuori di pietra impenetrabili. Lavoro e denaro, l'ispirazione non manca, è la voglia di metterla in pratica che oggi latita, tutto vive e cresce all'interno, ma nel mondo delle apparenze nulla trapela, siete impassivi come statue o come guerrieri di terracotta del celeste impero. A casa in proprio lavorate parecchio, ma da fuori non si direbbe, sembrate inerti, inconcludenti, il lavorio è tutto interiore. Occhio vigile sul Financial Times, intenti a seguire il trend dei vostri investimenti, dove occorrono tempestività e attenzione, basta un attimo di indugio e l'occasione golosa viene afferrata da altri. In quest'intrigante gioco si vince e si perde con incredibile velocità. Se vi trovate nel campo degli affari, sapete bene che le insidie sono come un terreno minato. Meglio non scherzare col fuoco e avere pronte delle buone riserve per non trovarsi improvvisamente in ansia. Plutone, vostro pianeta guida, vi aiuta nell'ambiente lavorativo a gestire difficoltà che vi toccano solo di riflesso, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 17 di novembre. Con la vostra consueta grinta, riuscirete a superare i problemi di altri colleghi che sembravano insolubili. Beneessere, vitalità sotto i tacchi, forse avete mangiato troppo, succede in autunno quando il corpo reclama più calorie per vestirsi di un sottile strato di adipe in vista dell'inverno. Meccanismi consueti condivisi con ogni essere umano e animale. Che poi sono la stessa cosa, solo che voi in questo piacevole processo. Ci dati dentro parecchio, avanti di questo passo alla vita vi si formerà una ciambellina. Troppo golosi, non solo di emozioni, ma anche di manicaretti succulenti e dolci a base di cioccolato, datevi una regolata. Senza ginnastica, corsa e bici poi la situazione si aggrava. Non è ancora lovena, non vorrete arrivare a carnevale già rotolando vero? Non vi sentite al top della condizione fisica, ma è solo colpa della vostra sfera emotiva, oggi negativamente sollecitata dall'ansia e dallo stress. Una sana dormita vi aiuterà a recuperare le forze. Per lei, rotolini al girovita? Naturale, se non vi allenate in palestra e avete anche smesso di andare in piscina, indulgendo spesso in sfiziosità fuori pasto. L'autunno non è una buona giustificazione, il fisico va mantenuto oliato in tutte le stagioni. Per lui, quando qualcosa non va e avete bisogno di un supporto, due soluzioni a portata di mano, o vi mettete in posizione yoga e meditate, oppure andate a trovare la vecchia zia esperta di tarocchi. Ci azzecca sempre. Colore delle emozioni, viola. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 5, finanze, 9, benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.